no si tratta della vaschetta del secondo distribuita oggi alla mese che volevo regalare al sindaco insieme ad un documento ah ma questo è sequestrato lei sa facendo una cosa scopre io lo sequestro sequestriamo questa cosa e se non è vero questa andrà l'autore della giudizia ma qual'è il reato? per me questo è sequestrato ma qual'è il reato? perchè io lo volevo dire la sequestria al sindaco allora non è assolutamente dimostrato non è dimostrato che è della ristorante e allora non lo può sequestrare lei non lo può dimostrare 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 assolutamente no lo dice a lui queste amicoci questo è la ristorante lei non lo può sequestrare non mi fai niente lei non lo può sequestrare c'è tanto di etichetta le etichette non valgono nulla calma questo come dire se lei era la persona corretta e chiamava la polizia municipale affrontiamo comandante 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 il reato lo sta facendo lei accusandomi di un falso per me per me per me